I geologi Unicam già impegnati da tempo nello studio dei fenomeni sismici, in particolare per quanto riguarda il nostro territorio regionale, hanno subito organizzato un gruppo di lavoro per analizzare e per ripelire tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio le dinamiche del sisma che ha colpito il centro Italia il 26 e il 30 ottobre. Ai nostri microfoni il professore Emanuele Tondi, responsabile della sezione di geologia di Unicam. Subito dopo il terremoto si è istituito un gruppo internazionale coordinato da Emergeo e INGV di cui noi facciamo parte con 15 componenti e quindi ci siamo divisi i settori di tutta la zona che va da matrice fino a cupi di visso per rilevare tutti gli effetti legati al terremoto, effetti di superficie che vanno rilevati il prima possibile altrimenti con pioggia o vento, insomma con le agenti atmosferici rischiano di essere cancellati. Questo ci permette ovviamente di capire sempre meglio il comportamento delle faglie. Alcuni colleghi della sezione di geologia dell'Università di Camerino aveva appena pubblicato una nuova carta geologica dei Monti Sibillini e quindi abbiamo messo a disposizione questa carta a tutti i colleghi di Emergeo proprio per facilitarli nell'andare a riconoscere questi effetti di superficie. I nostri gruppi, quelli di Camerino, sono quattro gruppi principali, uno dedicato all'arrilevo delle faglie, quindi dell'attivazione delle faglie, un altro dedicato al rilevo dei fenomeni franosi legati al terremoto perché ce ne sono parecchi purtroppo, poi c'è un gruppo dedicato al database, quindi a quello di gestire tutta questa grande mole di dati che poi va messa in condivisione con tutto Emergeo e poi c'è l'altro gruppo legato alle variazioni delle sorgenti e quindi delle portate delle sorgenti e dei fiumi. La prossima settimana avremo ai nostri microfoni i professori Pietro Paolo Pierantoni e Domenico Ringoli che ci illustreranno nel dettaglio gli studi che stanno seguendo. Grazie.